Ciao, creatura. Io sono Eccati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Gozai e S.M.A. Questa sera vorrei provare a fare un video che ho visto su TikTok che fanno tutte le artiste ASMR perché è fatto così perché su TikTok sono tutti artisti ASMR e qualsiasi cosa fanno ASMR. No, non è tutto ASMR. Sbattono, fanno ASMR. No, fa ridere. Però questo mi è sembrato molto carino e volevo provare anch'io anche se vabbè tutte su TikTok hanno il Bluietti. Che sembra che sia o Bluietti o non sei artiste ASMR. Vabbè, e Bluietti è fatto proprio in piedi quindi il mio no non riesco a farlo stare verticale. Quindi vabbè dai ci adattiamo un po', ecco. Ci provo lo stesso perché l'idea mi piace tantissimo. Già solo sarebbe la... Beh, l'avrei letto dal dito, no? A riprodurre come un temporale e già io quando facevo il microphone touching mi sembrava già un temporale oppure anche il mare... un mare mosso, mare mosso. Ma quello lì mi ispira proprio, è bellissimo, è un effetto che spero di riprodurre perché ho del vecchio effervescente, vediamo se funziona. Non vado a sprecare una pastiglia di VVC per questa cosa quindi... perché insomma è uno spreco in più, anche le medicine costano però vabbè. Forse è scaduta direi, vabbè. Questa cosa l'ho vista appunto fare da tutte quindi non so di chi sia l'idea originale, quindi se qualcuno lo sa che è stata proprio la prima persona a avere questa idea me lo può scrivere nei commenti, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Spero di riuscire a fare... questo effetto. Proviamo. Aspetta che è passato il treno adesso. Proviamo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti. 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 Che bello. Ha un effetto bellissimo. Mi sento già più fresca. Mi sento già prestata ad autunno. Autunno, 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 ad halloween. Ah, che bello. Super bellissimo. Ci sono anche le campane. Ti piace di più solo così? Potrei anche andare via. Potrei anche andare via io e lasciare questo così, tutta questa situazione. Oppure anche con questo microphone touching. come piace di più. Ah, che bello. Ah, che bello. fresco. e quindi fedelissimo. E quindi fedelissimi. E quindi fedelissimi. senti? Cioè, non ho più spruzzato. Cioè, non ho più spruzzato. Qui si non si vede ma c'è una mega bulla. Oh, si è scoppiata. fammi sapere se ti è piaciuto questo esperimento. A me tanto. È bellissimo questo sempre. Sembra proprio una pioggia. Sopra... sopra un ombrello. Questi sono ogni tanto i tuoni. Bella, mi è piaciuta tanto. Ho fatto bene a provarla. Ho detto, ma si dai, provo anch'io. Non posso fare niente. Guardo su e ascolto anch'io. Ciao. 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 Ho fatto solo due spruzzi. E... Continua. Continua. Ed è scaduto su Browski. E questo per i doscienti ce l'ho da mille anni, mi è scaduto. E... era, in fondo, un cassetto. Lo sapevo che mi sarebbe tornato utile prima o poi. Tra l'altro io non lo sento neanche benissimo perché ho queste cuffie che ho da mille anni e mi si è rotta la destra, infatti quando uso il 3DO sento poco quando registro la destra e le ho comprate di nuove. Le ho trovato in offerta su Amazon, mi arrivano oggi, perché è difficile trovarle perché a me servono senza il microfono e col cavetto, perché adesso le vendono tutte a bluetooth e per collegarle al microfono devo avere il cavetto, non posso avere il bluetooth. E quindi stanno diventando sempre più rare, perché quelle che hanno di solito il cavetto hanno anche il microfono integrato, io invece non voglio il microfono perché a me servono solo per ascoltare quello che faccio con il microfono. Quindi non so se poi con un microfono andrebbe in contrasto. Questo sarebbe il mio soft spoken, spero si senta e sia piacevole durante la pioggia. Bello. Sembra come una rubrica del venerdì di agosto, gli esperimenti con i suoni e invece a martedì abbiamo il YOL. E poi il prossimo mese, quando tornerai dalle vacanze, ci inventeremo qualcos'altro. Volevo anche iniziare a leggere un nuovo libro, però dobbiamo finire l'altro. L'altro lo finirò con gli audio, ho già detto, e metterò degli audio gratuiti da scaricare sulla community di YouTube. E così lo finiamo così e tenete gli audio finali. Così faccio anche un regalo. Visto che mi seguite sempre, con molto affetto, vi tenete qualche audio mio in regalo. Una volta facevo gli audio per gli augurati. Adesso invece direttamente ve li regalano. Bellissimo. Mi piace proprio questo alternale. Il suono. Con solo due spruzzate. Spruzzate. Mamma mia. Sto zitta così ce ne cogliamo. La carta stognola, rifletto dalla luce. Come vedrò in fase di editing, c'è la faccia scura. Make up ti piace? Molto da lui. Sono già proiettata ad ottobre. Un po' di vento. No, troppo. Ok. Al prossimo. Cosa ha portato ecco a te nel suo mantello, no? Il temporale. Niente, mi scorchia sempre sto comodo. Bella, bellissimo, sono troppo contenta di averlo provato. C'è un tante cose che vorrei provare, ma poi a volte non ho, spesso non ho il coraggio che dico ma no, magari se lo faccio io non funziona. Invece bene funziona lo stesso. Che bello, mi piace, sono innamorata di questa cosa. Sono curiosa anche di udirla con le cuffie nuove che arriveranno perché adesso le sento però praticamente no, cioè sì, questo microfono non è binaurale quindi il problema magari non c'è. Ma vorrei provare appunto con il 3D o le cuffie nuove. perché quell'effetto lì? Perché all'inizio pensavo fosse il mio 3D o che avesse tipo l'orecchio destro e non funzionate. invece poi sono andata a sentire i video degli altri binaural e non sento comunque il destro quindi è colpa del mio cuffie. Non ho le casse quindi ho solo queste cuffie qua, non ho altre cuffie. Poi ho quelle notturne che sono a fascia e con quelle invece si sente destra e sinistra quindi ho capito che era colpa di questi cuffie qua. Ecco. Quindi adesso non vedo l'ora che arrivino perché voglio provare a fare dei video dove sento anche il destro. Sento bene il destro. Lo sentivo ma lo sentivo più basso. Ecco, diciamo così. Qualcuno mi ha chiesto anche un video get ready with me dove mi trucco e lo faremo più avanti. e magari sui jeans, sui jeans scegliamo il make up. Cioè tiro fuori tutte le mie palette, vi faccio scegliere la palette e vi faccio scegliere magari i colori così da. e così lo facciamo. E così lo facciamo. Più bello farti scegliere a te la palette perché sennò io uso sempre quella. Adesso sono fissata con quella. Cos'è? Cos'è? Costellation. Costellation di... di revolution. Vabbè, volevo fare un esperimento Un breve esperimento Quindi finisco qua il video Anche perché sento Rumori in lontananza Fastidiosi Ah, è andato via Quello che abitava sopra Adesso c'è una donna, non l'ho ancora vista Ma l'ho sentita Ecco, dicevamo E adesso credo sia in ferie Quindi non posso ancora Segnarmi i suoi orari Per fare i video Quindi adesso Già si sveglia tardi Non so neanche che cosa sia Spero che questo video ti sia piaciuto Grazie per Anche se siamo in vacanza E tutti se ne sbattono Di continuare a guardare i miei video Io come sempre ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao creatura Ciao a tutti Grazie.